Ha preso il via a Giuliano ieri un corso di formazione dedicato all'autismo. Genitori, psicologi, educatori, professionisti del settore ed insegnanti possono così confrontarsi con docenti esperti per approfondire ed essere ancora più preparati ad affrontare le esigenze dei bambini autistici. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato che permetterà anche l'acquisizione di 40 crediti ECM. Ad organizzare il corso la cooperativa Mondo in Cammino guidata da Giovanni Leonardi. Noi lavoriamo tantissimo con i bambini e con la disabilità e il nostro pane quotidiano abbiamo spesso richieste da parte delle famiglie nonché dalle istituzioni di far diventare sempre i nostri operatori super specializzati nelle patologie che noi curiamo e seguiamo di più. In particolare oggi facciamo il corso sull'RBT che è l'analista del comportamento e abbiamo l'onore e il piacere di aver ospitato il professor Bartoloni direttamente da Firenze che ci ha gratificato della sua presenza ma soprattutto ci ha gratificato della sua professionalità che ha permesso ai nostri operatori e anche il nostro corso è aperto anche all'esterno ed ha avuto un successo non indifferente. di questo siamo altrettanto contenti perché negli operatori c'è un'altissima voglia di formazione, un'altissima anche determinazione. La durata sarà di 40 ore e si articolerà in 5 seminari full immersion tenuti dal dottor Claudio Bartoloni. Il corso RBT è un corso per tecnici del comportamento registrati, è un corso per figure professionali per mettere in grado fondamentalmente queste persone, questi educatori a mettere in atto e implementare programmi di tipo ABA, cioè programmi comportamentali per lo sviluppo di abilità in bambini e soggetti adulti anche con disabilità intellettive.